Sul tema di Piazza Duomo arriva anche la presa di posizione di alcuni commercianti della piazza che chiedono al comune di non tagliare il luogo più centrale e rappresentativo dagli eventi cittadini ma al tempo stesso per valorizzare la zona pedonale propongono un'idea di sosta breve a rotazione sia per il cittadino che per il turista. Posizione espressa da diversi commercianti Enrico Dioletta, Marcello De Angelis, Andrea Ventruto, Roberto Pantaleo, Ralfa Aureli e Marco Carosone. La ritrovata scalinata di San Bernardino è un fulcro di attrazione importante per tutti ma non possiamo dimenticare Piazza Duomo scrivono il punto di riferimento della città. Si dicono anche pronti a sostenere iniziative di intrattenimento per alietare le giornate estive della piazza e ottimizzare l'assetto dell'isola pedonale. Non è un no dunque all'isola ma piuttosto una richiesta di attenzione anche verso di loro. Confesercenti appoggia la loro richiesta e commercianti spiegano di voler prendere le distanze da ogni polemica. Sicuramente gli eventi in Piazza Duomo sono l'ossigeno per tutti i commercianti di Piazza Duomo e ben venga San Bernardino perché è un'ottima location sicuramente però non si può dimenticare comunque Piazza Duomo che è la piazza principale della città. Noi chiediamo semplicemente questo che non venga dimenticata Piazza Duomo e siamo contrari a qualsiasi polemica e non vogliamo insomma dare adito a polemiche appunto. La città si sta mostrando molto spaccata sul tema anche politicamente. Una parte apprezzo l'isola e il centro libero delle auto, una parte chiede aggiustamenti sugli orari per poter lavorare di più durante il giorno, una parte sostiene che la città ricostruzione non era pronta, intanto però il fronte del no si allarga e da 150 firme iniziali e già protocollate se ne stanno aggiungendo di con i commercianti promotori molte altre anche di clienti professionisti che sostengono che i clienti hanno difficoltà a raggiungere i loro studi.